Buongiorno da Alcamondo Blog e Massimo Provenza che vi parla dalla strada statale 187 in corrispondenza della spiaggia Playa. Qui come possiamo vedere è crollato una parte del costone che possiamo chiaramente osservare, adesso proviamo ad avvicinarci nei limiti del possibile. L'episodio come ci riferiscono è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, squadre di protezione civile, Polizia Municipale di Castellammare del Golfo e vedete la situazione che è venuta a determinarsi, ci riferiscono che per fortuna non si registrano feriti. Non è veramente grave l'accaduto in considerazione del fatto che questa è una delle strade più trafficate, più importanti del territorio, strada statale 187 tra Alcamo Marina e Castellammare del Golfo in corrispondenza della spiaggia Playa in territorio di Castellammare. Ovviamente questo tratto di strada attualmente è interdetto per ragioni di sicurezza e in attesa che vengano rimossi questi massi che sono crollati sulla carreggiata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.